Come è stato? Senatore Zolano, anche lei qui al Reptile Fashion, anche lei un appassionato di rettili? I rettili sono una cosa essenzialmente strana. Uno ha una paura così, un gestrano, secondo me, però ha sempre la curiosità di vedere, così anche in televisione, in questi canali di sky, dove ci sono rettili, comunque si parla di animali, e credo è una mostra abbastanza interessante, soprattutto se si pensa che sia organizzata da due ragazzi, da un'altra, ci vuole ovviamente una certa passione, passione anche nel corso di tipo economico. Una mostra abbastanza simpatica sotto certi aspetti, interessante, bisognerebbe portare anche i bambini, perché ci sono molti rettili che non sono velenosi, per cui un contatto, diciamo, più prossimo, più vicino, sarebbe avvicinare, ecco, di più la gente, ma soprattutto, ecco, i fanciulli con questo tipo di animali che li gutano sotto un certo aspetto terrore, ma anche, come stiamo vedendo, tanta simpatia. E' iniziativa che servono a migliorare anche il turismo della nostra provincia? Sicuramente, noi ci siamo spostati, cinque persone, raggiungendo, sapevamo di questa iniziativa e, ancora avendo magari qualcos'altro da fare, siamo venuti a vedere, spinti dalla curiosità per i rettili, che sono, ripeto, animali diversi rispetto agli animali anche esotici che conosciamo, che ingutano, diciamo, rispetto, ma anche tantissime esotici. Grazie a voi.